sai dove sono finiti tutti quanti rana o non sono nemmeno qui mi domando dove siano andati vi ho trovati finalmente dove vi eravate cacciati siamo andati a passeggiare con daghi abbiamo fatto cose tremato danze tigre spettacolo gelatina un attimo un attimo uno alla volta è difficile da spiegare come facciamo a dirglielo potremmo fare uno spettacolo come ha fatto tigre tigre? sì vedrai! oh vi va di assistere a uno spettacolo? che ne dite? no daghi ci puoi aiutare a fare uno spettacolo? ma certo che può daghi ha il distintivo delle marionette! sì! avete tutto quello che vi serve per fare le vostre marionette? sì abbiamo la carta, nastro adesivo, cartoncini, lustrini, colla, pittura, gelatina beh allora suppongo che siate pronti per fare le marionette! finito! siete pronti per lo spettacolo delle marionette? oh uff! bene! beh siamo pronti anche noi, vero? no ciao!